Cari amici, ben trovati a questa nuova puntata di Belli Dentro Belli Fuori. Inizieremo a parlare dei benefici e dei danni dovuti ad una prolungata esposizione al sole. Nella seconda parte del talk invece ci occuperemo insieme alla professoressa Antonella Viola del nostro sistema immunitario. Non mancheranno gli appuntamenti con l'alimentazione e lo sport. Vedo già Margherita De Bac pronta nel nostro salotto del benessere. Io la raggiungo subito ma prima riepiloghiamo gli argomenti in grafica. Benvenuti per questo argomento solare. Parliamo di sole, di come prenderlo bene, di come andare sulla spiaggia tranquilli e ne parliamo con Ketty Peris, benvenuta di nuovo, presidente della SIDEMAST. SIDEMAST che ripetilo tu, società italiana dermatologia e malattie sessualmente trasmissibili. E malattie sessualmente trasmissibili e dermatologa del Poliglinico Gemelli, diciamolo tutto. Allora Ketty, scottature. Scottature che contiamo a prendere? Come evitarle? Come prepararci bene? Perché poi non è detto che una volta presa la scottatura ci siamo tolti il problema e possiamo liberamente esporci al sole la volta successiva, una volta guariti? È così, vero? Sì, la scottatura è veramente l'unica cosa che deve essere evitata quando uno si espone al sole perché è provato che rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo dei... Ne basta una? Diciamo che già, sì, alcuni studi dimostrano che una è già un fattore di rischio, quindi sì, l'ideale sarebbe non scottarsi mai. Fai una definizione, dai una definizione della scottatura? Qual è? Non è la spellatura? Cioè quando proprio la pelle ribolle? Allora, ci sono vari gradi di scottatura, quindi diciamo che quando si diventa rossi e insomma quando proprio è la prima fase, quando si diventa color peperone. Però ancora non siamo in una fase di peperone. È già scottatura quella. È già scottatura. È già una scottatura fattore di rischio. Non è esattamente lo stesso grado che si usa per le ustioni, ma è molto simile. Quindi diciamo che la scottatura, quindi quel rossore quando si rientra dal mare, quella è già una scottatura di primo grado. E quello già ci deve allarmare. E quello è un danno sulla pelle, non è la preparazione alla bronzatura, è proprio solo un danno. Poi quando è peggiore ci sono le vescicole, quelle ripiene d'acqua o le bolle che sono più grandi e lì ovviamente bisogna anche ricorrere a presidi diversi e sono analogamente delle scottature. Ma se già noi ci fermiamo al primo grado di scottatura, quello è già sufficiente. E lì dobbiamo fermarci, cioè il giorno dopo è assolutamente proibito andare e tornare ad esporci al sole. Assolutamente, perché quello è un insulto, un danno sulla pelle che va curato. E quanti giorni dovremmo aspettare prima di tornare ad esporci? Fino a che passa completamente. Quindi fino a che la pelle è tornata del colore normale. Si può abbassare il fattore protettivo? Perché molti dicono, ah sono già abbronzato e non metto più la protettiva. Allora di solito si compra una crema 50 e poi una 30, no? Sì, o una 10. E una 10. Qui dipende un po' dal soggetto e dal tipo di pelle. Quindi una persona che ha una pelle scura più facilmente può utilizzare questo sistema di abbassare. Però abbassare significa comunque passare da una protezione alta a una protezione media e significa comunque riapplicarla nell'arco della giornata. Un altro errore che non bisogna mai commettere è quello di mettersi una protezione alta, sentirsi protetto e quindi esporsi al sole per diverse ore. No, anche in quel caso ogni due ore va riapplicata. Sì, quindi questo però non sarà possibile per uno che ha una pelle chiara, al quale io consiglierai comunque di usare una protezione alta sempre. Anche perché considerate che una protezione davvero totale non esiste. Quindi anche quando c'è scritto il 100% non è così. Non è proprio così. Ci sono dei tubetti dove c'è scritto 100% ma non è come avere un paravento davanti, uno schermo davanti. Senti, come prepararsi? Lo abbiamo detto tante volte, no? Beta carotene, esposizione graduale. Ma quando subentra la scottatura, il rossore, come curarci invece? Come aiutare il ritorno indietro, il ritorno alla normalità? Qui dipende sempre dall'entità e anche quindi non solo dalla gravità ma anche da quanto, quanta parte del corpo ci si è scottati. Quindi se sono diciamo forme di localizzate perché magari uno si è dimenticato di mettersi la crema sui padiglioni auricolari oppure su alcune parti del corpo. Sì, quello può non essere pericoloso. Quello uno può metterci o una pomata al cortisone o anche semplicemente un legnitivo a base di aloe. Se invece interessa tutto il corpo a volte è necessario anche utilizzare del cortisone per bocca. Quindi io direi se non è una cosa facilmente gestibile a casa di rivolgersi comunque allo specialista. Senti, oltre alle scottature, quali sono gli altri danni del sole? L'eritema, che comunque l'eritema di per sé è un danno della pelle o è soltanto una reazione passeggera innocua. È un danno, è comunque un danno, perché significa che il nostro DNA e la nostra pelle non è stata in grado di rispondere adeguatamente al sole. Quindi quando noi ci esponiamo la nostra pelle ci difende in continuazione. Quindi abbiamo dei meccanismi di difesa che vengono attuati costantemente. Altre altre reazioni sono dovute agli UVA principalmente, sono le rughe, quindi tutto il foto, l'invecchiamento, le macchie solari fino ad arrivare ai cimori. Ecco, a proposito di macchie solari, chi ha la pelle con questa predisposizione? Come si deve comportare quando si espone al sole? Deve proteggersi, perché la fotoprotezione è l'unica cosa che previene le macchie solari. Quindi, ma non ci dobbiamo ricordare di farlo solo quando ci si espone, ma anche quando si cammina in città, quindi avere una crema sul viso, sulle parti foto esposte, per cui quelle macchie brutte che si possono formare sul viso, sul dorso delle mani, possono essere prevenute solo con la fotoprotezione. Anche perché poi non c'è modo di mandarle via. O ci sono degli interventi, voi li fate di bruciature, si può fare il ghiaccio, l'azoto liquido, oppure altre cose. Però è sempre un correre ai ripari. Però è un correre ai ripari. Io alle giovani dico sempre proteggetevi, perché poi sarà l'arma vincente per tutta l'età adulta e più avanti. Invece per quanto riguarda i più piccoli, io mi faccio sempre troppi problemi quando li porto in spiaggia, perché ho paura che magari si scottino, quindi il cappellino, la protezione alta, sono tutte cose giuste che si devono fare con i bambini. Quello è l'approccio più corretto. Quello che vedete fare molto spesso alle popolazioni nordiche che hanno questi bambini tutti vestiti in spiaggia, direi che è l'approccio teoricamente più corretto. Allora, Eleonora pensa ai bambini, io agli anziani e ti chiedo, esiste il dermatologo geriatra? Cioè, ho detto male, comunque quello che si occupa in particolare o ha degli interventi particolari per chi ha già la pelle invecchiata da sole, dalle rughe, dallo sport? No, non esiste una figura specifica, anche se devo dire che la società europea sta cercando di creare un gruppo. No, no, assolutamente. Sta cercando di creare un gruppo perché ovviamente le persone hanno un'età sempre più avanzata e ci sono aspetti che sono specifici per le persone anziane. La chiamano dermatologia di precisione, nel senso personalizzata? Sì, il termine viene più usato per altre cose. Comunque la figura del geriatra, per esempio, è già prevista all'interno di team multidisciplinari in cui viene preso in carico un soggetto anziano. Sì, sì, è un aspetto importante. Quando dovremmo sottoporci a dei controlli e ogni quanto? Cioè c'è un periodo dell'anno più adatto? Non c'è un periodo, diciamo che un controllo viene consigliato più o meno annualmente e in questo momento sarebbe un messaggio molto importante da dare perché noi abbiamo visto una riduzione significativa delle diagnosi di tumori della pelle proprio perché la gente non si è fatta vedere in questo periodo di pandemia. Quindi diciamo che il controllo annuale è uno standard che copre abbastanza tutti e poi può variare in relazione ai fattori di rischio. Ti dico solo che io ho una figlia con i capelli rossi e ogni sei mesi la porto a far controllare. Certo, dipende magari ovviamente anche dal tipo di pelle e dal tipo di carnagione. Grazie professoressa, la lascio con Margherita. Grazie a lei. Grazie. Allora Ketty, cambiamo argomento ma non tanto. Le cicatrici, le cicatrici al sole. Innanzitutto il sole le cura, è una terapia per farle migliorare? Beh, diciamo che se le cicatrici sono molto recenti è preferibile che non ci sia un un'esposizione proprio diretta perché ci può essere sulla cicatrice una sollecitazione o una iperpigmentazione anche e quindi dei colori diversi. Quindi io consiglio di non esporsi se la cicatrice è recente. Infatti anche tutti gli approcci estetici si riducono di molto nel periodo proprio preestivo. Ecco, invece chi ha una cicatrice di lunga data e col costume la vuole nascondere, ci sono delle pigmentazioni, dei tatuaggi speciali che non sono quelli del tatuatore normale, sono proprio dei tatuaggi correttivi, vero? Sì, c'è la possibilità di fare dei tatuaggi su cicatrici che magari la persona considera antiestetiche e devo dire però che anche i tatuatori... Sono bravi? Sono bravi, sì, nel senso che chi si dedica specificamente a questo ha davvero una buona manualità e ottiene dei risultati apprezzabili cosmeticamente. E immagino che si possano fare questi tatuaggi coprenti soltanto quando la cicatrice è finita, ha finito il suo lavorio, cioè si è definitivamente assestata? Assolutamente, sì. Quindi bisogna aspettare qualche mese dopo l'intervento chirurgico per stabilizzare... E avere il via dal dermatologo e poi andare dal tatuatore. Quali sono i casi in cui intervenire con questi interventi di copertura? Possono variare da cicatrici conseguenti a interventi chirurgici magari che hanno riparato una malformazione, quindi appunto una palatoschisi, un labbro leporino, oppure anche tutta la parte di interventi sulla mammella o anche delle cicatrici... Che noi non vogliamo far vedere. Fino a... possono essere i tatuaggi invece correlati a una pigmentazione per l'assenza di capelli, per esempio, o per l'assenza di sopracciglia. Quindi possono essere estremamente vari. Grazie a Katy Peris e un buon sole a tutti. Caro Gabriele, buongiorno. Buongiorno. Pronto per quest'estate? Assolutamente sì. Prontissimo. E pronti per i nuovi consigli. Pronti per i nuovi consigli, soprattutto sull'insalatone. Oggi parliamo di questo. Assolutamente in stagione. Ok, perché visto anche le temperature, tutti noi siamo più propensi a consumare dei cibi freschi. Allora, qual è la combinazione giusta per una buona e soprattutto sana insalatona? In realtà è un alimento fantastico. Cioè, definiamolo un monopiatto fantastico. Perché all'interno contiene sia fibre, quindi vegetali, ma possiamo aggiungere dei carboidrati, pane tostato oppure del mais. E in generale si possono aggiungere delle proteine, che non è nient'altro che la conclusione più logica per un'insalatona. Possono essere monoproteiche, quindi utilizzare semplicemente un solo alimento proteico. Faccio l'esempio di un'insalatona con pomodorini tonno. Stop. Tipo questa? Tipo questa che vediamo. Altrimenti possono essere insalatone con più proteine diverse, di origine diversa. Faccio un esempio tonno con mozzarella. Ora, bisogna fare semplicemente attenzione sul fatto di non eccedere con le proteine differenti, non tanto per l'apporto proteico in sé, piuttosto per la qualità di acidi grassi che andremo ad ingerire. Quindi quando mi dicono, no, non mettere la mozzarella perché hai già messo il tonno, non è vero, cioè lo posso mangiare insieme, purché le quantità siano giuste. Congrue per il pasto. Ad esempio, questa insalatona, di cui hai parlato poco fa, tonno, pomodorini, quante calorie apporta? Con un giusto apporto di condimento quale olio, stiamo attorno ai circa 450 chilocalorie. Ma attenzione all'olio, perché da italiani in generale tendiamo ad eccedere con questo condimento. Quindi quelli che dovrebbero essere i comuni due cucchiaini tendono ad essere le due passate direttamente con le mani sopra. Quindi diventa eccessivo. Ecco, parlando di condimenti, qual è il condimento giusto, perfetto, sano per una insalatona? Un pizzico di sale, un pochino di spezie e due cucchiaini di olio per porzione. Due cucchiaini di olio massimo. Gabriele, per esempio in questa insalatona c'è il mais, possiamo abbinare del pane o comunque dei carboidrati? No, perché è già presente all'interno del mais stesso. Neanche un pezzettino? C'è già il mais, quindi in realtà in questo tipo di insalatona con il carboidrato all'interno no, piuttosto in questa che vedo a fianco, dove abbiamo del parmigiano, delle olive e del lattoghino valenella songino, in realtà posso aggiungere un pochino di pane perché è come se avessi compensato il mais che ho dall'altra parte. Grazie Gabriele per i tuoi preziosi consigli e noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità. Grazie. Bentornati a Belli Dentro Belli Fuori, allora siamo pronti a scoprire e a capire come funziona il nostro sistema immunitario e lo faremo con la nostra prossima ospite, Margherita. La nostra prossima ospite che io presento mostrando la copertina del libro, Antonella Viola, Danzare nella tempesta, viaggio nella fragile perfezione del sistema immunitario. Antonella Viola è immunologa all'Università di Padova e poi a Città della Speranza che cos'è? Sono il direttore scientifico di questo istituto di ricerca dedicato alla salute dei bambini, alla pediatria. Quindi a Eleonora se tu poi ne puoi approfittare perché fai sempre... No, poi io sono di Padova. Tu sei padovana, ecco. Quindi siamo vicine di casa. Quindi conoscerai sicuramente la Città della Speranza. Certo. Antonella, questo tuo libro è appena uscito, è il primo? Il 6 maggio, sì. Danzare nella tempesta. Che cosa significa? Il sistema immunitario è esposto alle intemperie? Proprio così? Sì, il compito del sistema immunitario è proprio di affrontare le crisi, no? Quindi è una tempesta quella che si scatena nel nostro corpo quando c'è un patogeno, un virus o un batterio che ci attaccano. E il sistema immunitario però reagisce organizzando una sorta di coreografia, appunto una danza in cui le cellule lavorano tutte insieme, le molecole si attivano per appunto dirigere questa danza che ci porta verso la guarigione. E diciamo che il titolo dipende proprio dal fatto che quando appunto c'è l'attivazione del sistema immunitario ci sono i linfociti e le cellule che attivano i linfociti all'interno dei nostri linfonodi che si abbracciano e cominciano proprio a danzare. Se lo guardate al microscopio è come un tango, è molto romantico. È proprio un ballo. Sì, sì, questo è un momento cruciale perché questo determina se il sistema immunitario si attiverà e quindi combatterà un patogeno o a volte quando sbaglia se invece si attiva impropriamente. Quindi genera quelli che sono i problemi del sistema immunitario, quindi le allergie, le malattie autoimmuni, quindi tutte quelle situazioni in cui ha sbagliato un po' il target. Noi mai come in questi due anni ormai di pandemia abbiamo parlato di sistema immunitario che è stato altro che tempesta, che cosa ha subito, ha visto qualcosa che non aveva mai visto, che cosa è successo? Che cosa abbiamo imparato anche a conoscere del sistema immunitario che non sapevamo? Allora, le persone normali che non sono addette ai lavori hanno imparato tantissimo perché sono diventati tutti esperti di test sierologici, anticorpi, vaccini. Abbiamo imparato anche la tempesta citochinica perché ahimè questo virus, come sappiamo, nei pazienti che vanno male, i pazienti che hanno bisogno della terapia intensiva o addirittura che muoiono, quello che succede è proprio il nostro sistema immunitario che non funziona e il sistema immunitario che si attiva in maniera eccessiva genera questa tempesta di citochine, queste molecole che normalmente coordinano la nostra danza, la danza delle nostre cellule, che in questo caso invece sono deregolate e quindi portano al danno dei nostri tessuti. Perché purtroppo il sistema immunitario ha questa caratteristica, cioè deve muoversi sempre sul filo del rasoio perché deve stare attento a eliminare ciò che ci può effettivamente causare un problema senza danneggiare il nostro stesso corpo. Quindi senza dare una risposta autoimmune, hai visto come ho imparato anch'io? Sì, esatto. O come nel caso del Covid senza dare una risposta infiammatoria esagerata che è quello che succede poi nei polmoni dei pazienti ma anche nei reni a livello del sistema nervoso centrale. Quindi è un'eccessiva, una risposta non controllata. Forse ci insegna che quando noi abbiamo delle risposte eccessive alle crisi sbagliamo. Alla fine la risposta è contro quello sempre. Anche nella vita. Senti Antonella, una parte del libro che io ho letto è dedicata, me lo sono segnata, al microbiota. Ma non mi dire che... Innanzitutto dici ancora una volta che cos'è questo microbiota che viene spessissimo tirato in ballo. Allora, il nostro corpo è abitato da microbi. Noi siamo metà umani e metà microbi. Nel senso che c'è una grande comunità microbica che vive sopra di noi, sulla nostra pelle e dentro di noi. E quella invece è più importante che quella che abita appunto all'interno del nostro corpo, quella nell'intestino e che una volta chiamavamo la flora batterica. Prima che diventasse così famosa e venisse oggi chiamata microbiota intestinale. Quindi non c'è alcuna differenza tra flora intestinale e microbiota. No, è la stessa cosa. È la stessa cosa, solo che flora è un termine sbagliato, no? Perché ci fa pensare che in realtà il microbiota è composto da virus, da batteri principalmente, da funghi. Ed è regolato fortemente dall'alimentazione. Nel senso che noi nasciamo, quando il bambino nasce, non ha un microbiota intestinale formato e quando comincerà quindi a, dall'inizio a suggere il latte materno, poi a mangiare le varie pappine, comincerà a generare il suo proprio microbiota. E questo microbiota è così importante che lo aiuterà a sviluppare il sistema immunitario e quindi determinerà anche lo stato di infiammazione del bambino. Quindi, per esempio, se un bambino avrà una disbiosi, noi chiamiamo disbiosi intestinale, quando la flora batterica e il microbiota intestinale non è equilibrato, queste disbiosi possono portare, per esempio, a malattie come l'asma. Ma oggi le leghiamo anche a malattie estremamente più complesse. Le leghiamo all'autismo, per esempio. Le leghiamo alla depressione. Le leghiamo naturalmente all'obesità, alle malattie cardiocircolatorie. Quindi, è davvero una comunità microbica che si relaziona con il nostro corpo. Ma dove è a sede il microbiota? Proprio nell'intestito? Nell'intestino? Abbiamo diversi tipi di microbiota. Non abbiamo il microbiota nello stomaco, abbiamo il microbiota in varie parti nell'intestino, abbiamo il microbiota a livello della vescica, abbiamo il microbiota sulla pelle. Quindi, ogni parte del nostro corpo è abitato, in qualche modo, da questi microbi, che producono una serie di sostanze che regolano la nostra salute. Per esempio, a livello intestinale, perché noi diciamo che dobbiamo mangiare le fibre, no? Perché è importante mangiare i legumi, è importante mangiare i cereali integrali. Perché diamo da mangiare le fibre ai microbi buoni, quelli cioè che producono sostanze antinfiammatorie che vanno quindi a spegnere l'infiammazione e ci evitano quindi le patologie di tipo autoimmune, le allergie, ma anche hanno un ruolo importante nella prevenzione dei tumori. Attivano, per esempio, le cellule del colon, del nostro intestino, facendo in modo che siano serrate l'una all'altra e quindi non lasciano passare sostanze molecole che, andando invece in circolo al fegato, causerebbero un'infiammazione generalizzata. Hai accennato all'importanza dell'alimentazione, che è fondamentale soprattutto affinché il microbiota assolva le sue funzioni di regolatore dell'intestino, della digestione. Adesso andiamo incontro all'estate, una stagione in cui notoriamente si mangia male fritti, pizza. Che cosa fare per non alterare questo benessere interiore che abbiamo, che possiamo avere? Guarda, questa è una bellissima domanda perché la cosa interessante del microbiota è che veramente lo possiamo regolare a seconda del tipo di alimentazione che abbiamo. Per esempio, se noi mangiamo molti zuccheri, noi selezioniamo quei microbi che si nutrono di zuccheri e quindi avremo sempre più voglia di zuccheri. E quindi è veramente un circolo vizioso. In estate la cosa migliore è mangiare frutta e verdura naturalmente, magari anche una bella insalata di riso integrale, di orzo integrale, di cereali integrali. Perché continuo a insistere? Proprio per questi acidi grassi a catena corta che sono così importanti e che vengono prodotti dai batteri che si nutrono delle fibre. Una delle cose essenziali che noi abbiamo imparato negli ultimi anni è che le nostre cellule adipose, gli adipociti, non sono solo una dispensa, dove noi mettiamo quello che non usiamo, che non ci serve, ma producono citochine e quindi causano infiammazione si stessi. Quindi più tessuto adiposo abbiamo... Quindi noi mangiando bene agiamo da un lato abbassando l'infiammazione e riducendo il tessuto adiposo. E dall'altro stimolando il microbiota antinfiammatorio che rafforza il sistema immunitario ma lo spinge nella direzione giusta, cioè quello della protezione verso le infezioni, ma non attaccare noi stessi. Certo. Ritorniamo subito a parlare di sistema immunitario e subito dopo questo consiglio per voi. È possibile rimediare la compromissione del microbiota intestinale? Sì, questa è appunto la buona notizia, perché mentre noi ancora non possiamo modificare il nostro DNA molto facilmente, possiamo modificare quello del nostro microbiota. Come lo facciamo? Allora, ci sono tre approcci principali. Quello normale è quello dell'alimentazione, come dicevo, con un'alimentazione sana ed equilibrata. C'è poi anche nelle persone che hanno delle disbiosi più gravi, c'è la possibilità di intervenire con dei probiotici, dei prebiotici o dei simbiotici. Quindi andiamo in questa maniera a fornire al nostro intestino quei microbi che non abbiamo e gli diamo anche degli strumenti per rafforzarsi. C'è poi il terzo intervento, che è quello più drastico, che è il trapianto di microbiota o anche detto trapianto di feci. Questo è l'intervento più drammatico, diciamo, però è importante e funziona. Come facciamo a sapere se questo microbiota, la flora intestinale, è amica o nemica? Allora... Cioè lo capiamo da come funzioniamo, da come ci sentiamo? Allora, se noi mangiamo bene e non abbiamo problemi di salute, possiamo pensare appunto di avere un microbiota in equilibrio. Tuttavia, se invece sentiamo che c'è qualcosa che non va, sentiamo che abbiamo problemi intestinali, naturalmente dopo aver parlato con il medico, perché non vorrei che le persone da sole andassero a fare analisi, no, ma parlando con il medico ci sono dei sistemi, naturalmente. Noi possiamo fare una mappatura del nostro microbiota e capire com'è fatto. Il problema qual è? Che ancora non abbiamo esattamente capito la composizione ideale del microbiota. Noi sappiamo che ci sono alcuni microbi, alcuni batteri che correlano con un profilo infiammatorio e quindi con lo sviluppo di malattia, mentre ce ne sono altri che correlano con uno sviluppo di protezione. Però ognuno di noi alla fine ha il suo microbiota, quindi c'è ancora tanto da studiare per arrivare a capire qual è per ognuno di noi il microbiota perfetto. Quindi è importante una sana alimentazione ed è fondamentale anche l'attività fisica, noi lo ricordiamo sempre. Oggi con la nostra personal trainer Daniela Mascia vediamo degli esercizi di Pilates. Daniela, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno Eleonora. Allora, oggi vediamo degli esercizi base di Pilates. Esatto, adesso vediamo, ce ne stanno tanti, adesso ne vediamo tre. Il primo facciamo di Andred, quindi andiamo giù, ci sdraiamo, salgo e spingo con le palmi verso il pavimento. Cinque spinte, inspiro, cinque spinte delle braccia, inspiro. Ok. Ovviamente se qualcuno ha dei problemi particolari inizia con la testa appoggiata, esatto. Va bene, il secondo esercizio? Il secondo esercizio andiamo invece sempre giù. Sì. E andiamo a fare un roll up. Un roll up. Quindi ci dobbiamo arrotolare. Devo arrotolare e lavorare bene con l'addome, salgo, vado avanti e torno giù in roll down. E torno qua. In questo caso le punte dei piedi devono essere dritte o ha il piede a martello? Allora, teoricamente dovremmo fare questi esercizi, meglio ancora senza le scarpe. Ok. Vediamo il terzo. Esercizio, sempre da sdraiate, afferro le ginocchia, le porto bene al petto, estendo una gamba, salgo con le spalle, quindi sempre addome attivo. Spiro e cambio, afferro il ginocchio. Si chiama single leg stretch. Ok. Proviamo a fare questo single leg stretch. Anche qua, chi non riesce a estendere bene la gamba, la terra un pochettino più alta, in questo modo un po' più semplice. Poi torniamo al petto e poggiamo a terra. Quando abbiamo finito, portiamo giù la testa. Ok, in tutto questo immagino che la respirazione sia sempre fondamentale. Esatto, soprattutto in questi esercizi qui, dove è importante lavorare bene, come ti ho detto prima, con tutto il tronco, quindi con il core. Nell'esercizio, nel secondo esercizio, espiriamo in salita. Grazie Daniela. Grazie a te Leonora. Ci dai sempre degli ottimi consigli. Professoressa, nel suo libro parla anche di allenamento, di attività fisica. Sì, perché anche l'attività fisica regola fortemente lo stato infiammatorio, il nostro sistema immunitario, soprattutto dai 50 anni in poi. Quindi più, diciamo, invecchiamo e più è necessario fare attività fisica. Esiste persino una condizione che viene chiamata oggi inflammation, che vuol dire, viene da due parole, inflammation, che vuol dire infiammazione e aging, che vuol dire invecchiamento. Quindi descrive tipicamente quello che succede nelle persone che hanno uno stile di vita sbagliato, quindi che non fanno attività fisica e che non mangiano bene e descrive appunto questo invecchiamento legato all'infiammazione. Se noi invece invecchiando, mangiamo bene e facciamo attività fisica, riusciamo a invecchiare in maniera sana. Antonella, una domanda conclusiva sul Covid non te la toglie nessuno. Sempre tenendo presente che dobbiamo indossare le mascherine, dobbiamo essere attenti, il distanziamento, però possiamo dire che il peggio è passato? Dicci di sì. Sì, assolutamente sì. Io lo dico da tempi non sospetti che per l'estate saremmo stati fuori. Abbiamo un grosso numero di persone vaccinate che sta aumentando rapidamente perché la campagna vaccinale sta procedendo bene e una volta che avremo messo in sicurezza tutte le persone a rischio, davvero non sarà più un problema. L'estate poi sappiamo che i virus respiratori normalmente si diffondono di meno, per cui a settembre ci ritroveremo vaccinati, protetti e forse ci potremo veramente dimenticare di questo brutto anno che abbiamo vissuto. E soprattutto delle mascherine che non se ne può più. Assolutamente. Professoressa, grazie per tutti questi consigli e queste informazioni sul nostro sistema immunitario. Noi l'aspettiamo presto qui a Belli Dentro e Belli Fuori per un'altra puntata con noi. Grazie a voi. Grazie Margherita. Grazie a te Leonora. Vi ricordo che potete rivedere tutte le puntate e anche quella di oggi sul sito di La Sette. Buon weekend a tutti. Grazie a tutti.